Questo è il nuovo terrapieno che stanno facendo sotto al decollo di Monte Rosso. Questo è proprio sopra i piedi, qua chiaramente è indecollabile perché è troppo ripido e ora qui ci spostiamo verso la parte sotto al decollo vero e proprio. Anche qui il nuovo terrapieno ci disturba un po' nella partenza in quanto la pendenza diminuisce drasticamente per cui bisogna vedere se con poco vento si riesce a superare. Questo gradino, questo sarebbe quello che ci si trova davanti non appena decollati. Il nuovo piazzale, girandosi dietro questo è il decollo. Probabilmente mettendo la vela in questo punto, gonfiandola, poi venendo avanti qualche passo si può poi staccare in questo punto. Grazie! Grazie! Grazie!